bentornati piccoli ninja salve a tutti i folletti di babbo natale si avviano si stiamo arrivando a natale questo gicchino ci fa entrare esattamente nell'atmosfera natalizia ma l'hai vista la no mi piacciono queste cose mi piacciono da morire oltre a nevicare in dragon nest e questo è il dragon nest c'è anche una serie ci sono anche c'è una musichina quando entrate ma ce ne sono una serie che vi accompagnano c'è astro del cielo facciamo silenzio ma potete dire qualsiasi cosa che questo gioco è un cesso che è un gioco di merda che è facile da giocare che è fumettoso che per i bimbi o eccezionale guarda se prima ti dicevo appunto che c'erano delle cose che non mi convincevano questo devo dire qualche questo beh facciamo vedere qualcosa a parte le decorazioni di natalizia e che cosa carina i regali fantastico guarda che mega alberone quello con avanti stava a correre apposta no vabbè eccezionale ne ho visti tanti di natali uno dei più spettacolari dei natali ma questo lo batte a mani basse eccezionale lo dobbiamo farlo vedere ai bambini eccezionale tiziano piace sì beh per un bimbo di otto anni questa è l'america bello questo colpo di indigenismo che hai dato adesso oh sorry i was thinking about the love novel i read last night oh no non voglio riparare nulla voglio che mi dai l'acqua oh sorry i was thinking about the love novel i read last night ah vedi e mi riconsegnare io qualcosa ho fatto con molta calma ti rito adesso spero che russia copri i miei silenzi mi piace vedere il gioco perchè allora questa cosa di parlare così mi scoccia da morire che non ho idea oh quanto mi scoccia perchè poi non leggo non leggo neanche in realtà io se parliamo con le guardie mi facciamo un rapporto solo con le guardie guardie la 160esima volta che parlo con le stesse guardie la cosa invece la freccia che ti indica dove devi andare quella sì mi piace però c'è una quest dietro le tue spalle guarda la mappina guarda la buonetà guarda la buonetà ma questo è possibile ah 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 da dove girati qua ma hai visto pure sopra le casse le chiesonano vado di qua va da dove? no no l'hai passata dimmi dov'è E non lo so Avvicinati un pochino dall'albero Qua deve apparire la Oddio la folletta Oddio la folletta Babbo Natale Spettacolo Dai Ma se mi faccio un costumino del genere per Natale? Scusami? Se mi faccio un costumino del genere per Natale? Vabbè per me C'è Winterfest per cui ti chiamo Fantastico Sì facciamo gli eventi di Natale Eh beh ce ne sono quelli di Notro Che io vorrei registrare Ma registriamo tutti gli eventi di Natale Che abbiamo Facciamo vedere l'evento di Natale Non ce l'ho Certo Se volete prendere anche l'altra questa Spettacolo Ecco questo è un modo Di parlare non mi piace Lo sai vabbè l'ho detto Basta sono monotona Ok adesso andiamo a fare qualche cosa Sì facciamo vedere anche come è giù Facciamo le questi di Natale Facciamo le questi di Natale No dopo le questi di Natale Vado a minare adesso qualcuno Vabbè però non hai letto che il nome è la questi di Natale Qualcosa in cui dovevo trovare delle cose per proprio Natale Però non mi sono molto applicato Sei proprio Brutto Inefficiente Ci stanno dei portali E inefficace Guarda Ultimamente ne abbiamo pronti tanti di Free2Play A proposito Quando andrà Ion Free2Play Oh puntatona Ovviamente puntatona Ritireremo fuori Ritireremo fuori Le famose I famosi Calzini Ovviamente Quello è il mio gioco del cuore E non perché ci ho giocato Poi Poi Diciamo anche che abbiamo comprato una disca Non posso mettere questa roba E' perché altrimenti niente di io amici Non c'entra Uno da due tera dedicato solo ai giochi Allora adesso sinistra Così vomito Ehm Di qua Di qua Leggi nelle quest qual è quella del Babbo Natale Ah no credo che non ci sia qui Mannaggia a me Mannaggia perché non leggi Gioca c'è il capone E perdiamolo il tempo Ah la U Basta ve lo leggero Eh Ecco Side quest Christmas tree decoration Probabilmente Eccola qui Ah devo Devo dare la caccia A dei crazy ducks C'è una idea di dove siano Vabbè E allora andiamo un po' A caso Ok adesso sinistra Adesso sinistra Così vomito Qui Qui E voleva dire sinistra Non ti vede Eh ho capito Ma a me mi mente l'ansia questa cosa Che mi cambi Troppo veloce Poi non metto fuoco Ok Non ci sono qui delle cose natalizie No credo che poi metto Cioè Non devo dare qua Dove devi andare Ah lì Qua Crystal stream Indica qui Andiamo Famo affidarsi Ok Adesso Posso avere Ancora O di qua O di qua O di qua O dall'altra parte Andiamo di qua Ce ne sono due Ma ti farai scegliere un'altra volta No No Ok dritto In quel loro sogno Ecco inizia a diventare Mi sembro Stank it Eh si Uno dietro l'altro Eccoci qua Sì Sì Non abbiamo mai giocato hard Questo gioco Ok Voglio dare le quest Queste Queste Qui Queste Ok no Entra Quando si Non abbiamo mai fatto Queste 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 Le zone Ah Si inizia Sì A minare Ah me li ricordo Questi Premi schiaffi Proprio Proprio Oh Vieni Me li ricordiamo Questi cani Tutti Sanno solo Capoccia La capoccia Con le zampe Non è voluto Una capoccia Con le zampe No Adesso Può fare Tecnicare Rush Attualmente Sì Sì Sono d'accordo Su Il volto a stomaco Ok Arrivano altri E puoi prendere I salbini Sì Passami Sopra E allora Com'era Non me lo ricordo Lengua Manso Non me lo ricordo Forse E No Prova un po' R No F F Ok Bellissima Alla fine L'alphabet F F T G Z Lo piava sta roba Eh Di solito Ci sono Dei denari Delle cose Dei soldini Ti potresti anche avvicinare Volendo Guarda qua Wow Mamma Devi sfruttare Questa Fantastica Fai Chi sembravo Non ci puoi andare Vicino Chi sembravo Chi sembro Chi fa questa cosa Mi stai a scadere Tardissimo Se non indagini al volo Mettere le mani In un gesto Traniere E tirare poi Delle palle di fuoco Dai Tutti tirano Tutti Tutti appunto Tutti tirano oramai Delle palle di fuoco Da quello che fu L'iniziatore Della palla di fuoco Vabbè Comunque Colui delle sette sfere Esatto Appunto Eh sì L'unico posto Dove puoi andare Adesso Avrei un milione Di nemici Guarda quanti nemici Ci sono Una marea Questa è una cosa Della palla Della palla Della palla Questa è finita Ecco Questi sono Fumettosissimi E sono Quasi Anche simpatici Quindi Rob Il mostretone Finale Invece Fa Vico Schifo E' proprio Un brutto Ce ne prendo Un po' La macchia E' una tastiera nuova Quindi Per i tasti un po' Più piccoli Perché Quindi Questa è una tastiera nuova Eh sì Mo' la scusa È una tastiera nuova E' una tastiera nuova E' una tastiera nuova Sì sì Tutte scuole Uno che sa giocare Sa giocare Anche con tasti Con tasti Microscopici Eh Poi dice A me E' una tastiera nuova Poi hai Tipo i regali Le robe Muore Ancora muore No Forse Aspella E' una scacazzata Arriva un altro Wow Questi li avevo Proprio Programmati Sì sì Ma quanti ne sono? Non ho idea Lei? È una serie? No no E tu vorresti fare questo altro Dopo che non ci giochiamo da Una vita Comunque ci hanno chiesto Sul canale Di giocare insieme all'horizon Eternal Perché no? Eh Ci deve scrivere il nick E ci diamo un appuntamento E poi gli passiamo Un appuntamento Sì perché altrimenti Come facciamo? Perché no? Mi sembra l'ottima idea Lei nuova? E' difficile ad arleclare Sempre di più Hai deciso che mi devi Fa sentire proprio male Ho visto che voglio Sopravvivere ma Poi lo si cura pure Sì Lei nuova? E muori Maledetto Ok io prenderei Adesso tutti Ecco Un'altra cosa che Mi piace Non mi piace Dipende Il fatto che Non puoi usare le pozze Ma quello che Sì ma quello che Droppi Che te lo devi usare Subito Capito? Diciamo che secondo me Ci vuole più abilità Perché La pozza Te la devi usare in combat Cioè devi uscire a andare Stratendo sulla pozza Che ti serve Mentre combatti Non è facile No C'era una collanina C'era una collanina L'ho vista Dietro Dietro Lì Sì ma è bianca Io ho un po' In dettaglio Te la rivendi? Ma Sì Io ho una veda Si chiama Particlass Band Sì sostanzialmente È un po' più complesso In questo aspetto Ecco Là dietro Per esempio Ci stanno Eh che la mancavo Ma io credo Io ho il set Eh babbo Chi se ne è? Sì perché il cleric Guarda via dopo Il casino Lo rivendi Poi l'anno Non c'era Sì Ok Poi Dei denari Credo importare A questo punto Eh no Stai tornando indietro Di là Importare Volevo dire Quei si è Dissuto Dissuto Lei Non si distrugge Le tenducce Non si distrugge Le tenducce Non c'è niente Nelle tende Mi dispiace Mi dispiace Stai col culo all'aria Ti volevo solo ricordare Eh ma E fa freddo Ho un mentito Sarà il super cattivo? Sì è quello E' un super audio Oh il super cattivo Quello è il super audio Non c'è nessuno Tutto Freddo Si può usare Le tue fantastiche spell Che prima hai usato Per ammazzare Le tasse di frutta Eh ma Monta Ci sarebbe È un tempo troppo lungo Per Però fa tanto danno Vabbè, ci voleva una rinforza Pareva che da solo Non ce la faceva Certo Ammazzarmi tutti Ammazzarmi tutti Ancora Ma questi sono quelli di fuoco Non ho già chiamato quelli freddi Hai ucciso il boss Eh ma tanto devi uccidere tutti Ecco, questo ti ha messo sotto letteralmente Questa è lì, ammazzare altrimenti Non ti fa ridurrere al campo Oh, e muori Eh, hai I soldi, almeno i soldi Ma poi posso rimanere qui Ma è l'inventario pieno però Sì Vai vai rompi tutto adesso Rompi prima il forziere Voglio vedere che cosa c'è Hai visto Tanti soldini Anche dei guanti Non sobbiamo Non ti vendi Niente, Carla Tu non ti rivendi niente Eh, devo andare nei posti Appunto, te li rivendi Come arrivi in un posto Te li rivendi nel caso Ok, abbiamo finito Sì E ci possiamo congiudare Probabilmente ma sentite che muschina di Natale Con questo perfetto Campanelli Natalizio Andiamo da un vendor E ci concediamo da voi Se volete giocare con noi E partecipare quindi Ai nostri video Ai nostri giochi Passare del tempo in nostra compagnia Se vi aggrada Ci dovete contattare Sì Ci mettiamo d'accordo Cerchiamo di trovare un modo Per giocare insieme E faccio i due risale Ma Deve ridarla a questo Di dietro? La volevo prendere Ok Voglio vedere se Se era tipo una Questa natalizia Avevi trovato qualcosa Del Natale Ma no Se questo Rituale o più Non lo preferite Vedere Sì Sì Ha gift Vedi Questo è un gift Ci sono Sì Vedi Allora andiamo a riterrere A quest del Natale No Possiamo fare dei regali Ecco Robe da cleric Le puoi buttare D'interesse Questo pure Questo no No Questo è Sorcher Lo terrei Warrior Sorcher Lo terrei Vedi che fai soldini No Tei dammi Sorcher Soderrei Beh Questa Meglio poter Soderrei Bisogna dei regalini Da poter consegnare E facciamo contenta Sì Regalini da consegnare Parliamo con la tizia Ma forse no No Nessuno ancora Niente Vabbè Sarà Prossima Sì Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti